E te l'evidente, un bia mas, buonoci, buoni miei dei nostri boletini per il già web s'acchi, 27 di settembre 2012. Nostro comissà, mesura, conosco, promè, informe. Un gruppo di cittadini preoccupati che da forti alle nocci, teore menesse il Presidente, ricevono carta per ristabilire la democrazia nel Corseo. Ascina Nathalie Maria explica, dopo che il gruppo era forte, cammini da alcun agente di polizia para non, explica non che il Presidente non è presente nel momento. Qui è il gruppo, la organizazione, o quello che sia? Un gruppo di Corseo, con un gruppo di cittadini che ha i diritti di democrazia, però quello che mi sta mirando sta passando, non per. Quindi mi sta che era direzione carta a mio primo ministro, a mio primo ministro di Nostro. Quanto nel nome? Nathalie Maria. Nathalie Maria. Noi ho primro ministro non c'è n tenían la carta come nel nostro nome, non c'è notato mai? Perché io mi staヶ insieme a Tor dimostare da una gente che è stata responsabile per receti di tarsea. Non ti siete per plumbing, non ti sono censati, non ti sono censati una carta in nostroby ezza? Noi, Prime Minister, non c'è. Non c'è nessuno che può ricevere carta come n crime, niente da fare. Ma non c'è nessuno che io mi chiede, ora il cantore, che non c'è nessuno che può essere responsabile per ottenere la carta. Non c'è un'altra cosa, se si è presentato le carta, non c'è nessuno? Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno che non c'è nessuno, non c'è nessuno che non c'è nessuno, Un gruppo con una manifestazione, sem permita, pacificamente, pacificamente, pacifico, 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 si non si queda tranquillo, non si queda tranquillo, ok, non si queda tranquillo, ok, non si, mentre tanto, mi non por Pabio Comaner, Ministro, mi non por Bai Casmar, è carta che sta entregata alla Prome, Ministro, la nostra cinta, guardaggio, ora è importanti, ma ora è sempre copia, ma ora è and 경orGA, la nostra cinta è internazionale, Il motivo di questa carta è che noi stiamo riparando, che la nostra democracia stiamo perdendo. Quindi mi chiede la carta per il primo ministro, per aiutare, per salvare la nostra democracia. Una volta che noi stiamo perdendo la nostra democracia? Per il motivo che il governo, non è un po' il governo, non è un po' il governo, non è un po' il governo in terreno. Noi abbiamo paziente per guardare 26 giorni per la elezione. E questo è il nostro foro. E come è che la carta deve essere a il primo ministro? Il primo ministro può essere tutto il suo esforzo per noi, per noi, per noi, per noi, per noi, per la elezione del 19, per noi, per il pueblo, per votare. Il governo sta preparando per fare la refineria Isla di Lanti, relaciona con la contaminazione di petrolio in Yankoc. Il ministro Constanza ha avuto varie entità in volvi. Pense che il ministro sta buon documentare per caso. E' l'intenzione per la corte, in tutto il caso, lo che sta succedendo ora, qui è il nostro abogato, di averlo, il signor De Vries, magari con la informazione che ti mette, ando per la final, indicando a me qui, a quale ho fatto, ho fatto questo ejercicio, di un modo che mi ha visto già passato, è un po' di camminare, per noi, per noi, come il governo, che è un'entità che si può mantenere, e che si può riempire, il nostro abogato, e che ora qui, noi abbiamo un'abogato, che c'è un'abogato che si può mantenere il nostro abogato, e il nostro abogato è che si può mantenere il nostro abogato. In tutto il caso, noi abbiamo anche un'abogato che si può riempire, di un'abogato che si può mantenere il nostro abogato, e di un'abogato che si può mantenere, di un'abogato che si può mantenere il nostro abogato, ma non si può mantenere il nostro abogato. E, quindi, il nostro abogato è un'abogato che si può mantenere, e quindi ci si può mantenere il nostro abogato, quindi, anche, ci si può mantenere ancora più informazioni, più forte, per i cammini, con la mia albergatina. Il momento è qui, noi rispiamo altre cimano che di oggi, e ora, e noi abbiamo avogato anche con il team del ministro che ho avuto coordinato, facendo le da Roussa e anche noi abbiamo di parte di Carmago, noi abbiamo e anche noi abbiamo di Stegten Unic andiamo con l'indica ora che ci sono andate, c'è una informazione nuova, andiamo a ponderci per il web e ci sono andate ora che ci sono andate lì, ci sono andate, ci sono andate, ci sono andate e ci sono andate, ci sono andate, ci sono andate, ci sono andate e ci sono andate, ci sono andate, ci sono andate e ci sono andate, ci sono andate e ci sono andate, ci sono andate in tutto il caso ci sono andate alla conclusione in concreto ora, ci sono andate, ci sono andate e ci sono andate e ci sono andate Anuncio falso di golpi di Stato ventilato al mondo, d'ordine ministro Carlos Monc da peligra a cupola di trabola in Corso e se è la posizione del parlamentare per par Zita Jesus Leito e lo explica che il golpi di Stato non è un'instabilità in Corso lo che è nel suo turno sta a afectare la confianza internazionale del paese lo che ci sono andate è un'instabilità in Corso è un'instabilità in Corso è un'instabilità in Corso qui in Corso è un'instabilità 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 in Corso in Corso è un'instabilità 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 in Corso e l'elezione a salire, per favore come se mi rata? La stessa in modo si è la diretta, per favore come se la siccia di i membri, l'elezione a tutti e l'aintezza di corso in generale. Per me danno questa domanda in modo che la pazza alla domanda della nazione di Marbella, il sindicato e il presidente è stata a traci l'omma? Per noi stiamo a traci l'omma, l'elezione di autonomo è stata a far riconoscire, la gente non è stata a far riconoscire, che non è stata a far riconoscire con il sindicato, che non è stata a far riconoscire, che non è stata a far riconoscire, che non è stata a far riconoscire, che non è stata adeguata alla domanda in modo che ci si era alcantarietà, e per noi è una soddisfazione e la nostra seguita al bai deve essere in direzione. Qui c'è un mensaggio che ti manda, sicuramente, e di più, docenti che non sono in casa, che non portano qui, ora qui? No, non si chiamano per bene, ma se va a vedere CITEC a l'ogra. Buongiorno, sicuramente, la parola di mio cari Lio Plantain, tu è che deliziamo in oggi un giorno più troppo come presidente saliente, qual è lo che ti tratta del sindicato CITEC? Una cosa che ti tratta di vedere, non c'è un'altra persona che ci sono qui, non ci sono visto in Giammar rapidamente, potete vedere ancora, il contello sta tommando il giro per il controllo, sta tommando il giro che tu vai per fare il contello definitivo, che sarà a casa mattina, ma non c'è, ma non c'è, ma non c'è sicuramente il contello preliminare per il sindicato CITEC. Il cameratore è in Giammar Scope, direttamente fuori di l'antesterno di CITEC, l'antesterno di CITEC è un'altra persona che si tratta del sindicato CITEC. Tommi è messo a bisognare il ministro Trinidad, ad una di conoscere il turma, il maestro di Turskoll, ha ricevuto il loan trade e l'indexere in maniera della parola. La nostra pasta è preparata in commerciale, ora con Gizmo Sobeco.